Ciao, sono Sara, da Yeti in Prevenzione di Ancona e vorrei fare uno scherzo al mio ragazzo, Nicola. Con la sua fregola che ho fatto un danno. Pronto? Amore, è successo un uccello. Benvenuta, un camioncino di suore, c'è un furgoncino di suore con la macchina. Me l'ha distrutta completamente dietro. Cosa devo fare? Cosa gli dico adesso? Eh, che prego, sono. Ma loro, benvenuti a parte? Benvenuti a parte dietro, sì. Non c'è nessuno lì? Pronto, con chi parlo? Chi è il buon uomo al telefono dall'altra parte? E' solo il ragazzo, Nicola. Nicola, salve. Allora, devi stare calmo anche tu, stai tranquilla perché ho già chiamato il signor Luigi, della nostra carrozzeria, è un amico della parrocchia. E non vi preoccupate, ve la sistema lui. Usa con chi parlo. Salve, sono suor Fregola delle passionarie della Gallura. Eravamo andati a prendere i color Jones per la badessa, suor Trudda. Ma non c'è problema, anche se adesso non si mette più. Non c'è problema, adesso chiamate la polizia. Non ho capito. Ma noi siamo suore, è questo che volevo dire. Non, non me ne prego un c***o, adesso chiamate la polizia. Mi ripassi la mia ragazza. Non si fa così, però io gliela ripasso. Sara, aspetti che sta arrivando il carrozziere. Sara, spostati. Spostati. Stanno portando via, Nicola, la macchina non sa cosa fare. Ma non c'è nessuno lì con te? Sì, sì, ci sono nessuno. Alessandro, adesso, non c'è nessuno? Ma cosa mi dico? Sono queste suore. Ma che c***o, mi stai a dire, ma va a fanc***o, va. Le suore, ma che c***o stai a dire? Ma che c***o è? Nicola, eccoci. Allora, il signor Luigi l'ha portata alla sua carrozzeria, poi l'ha passata a prendere e l'ha pagata. E la macchina, adesso ci penso io. Sara l'accompagno in banca. Ma come a pagare? Ma come pagare? Ma come pagare? Adesso non è che le suore sono servite. Noi non abbiamo l'assicurazione, ha capito? E allora c***o è tua. Cioè, nel senso, c'è l'assicurazione che non esiste. Lo so, ce lo dice sempre anche il suor Truda, ma lo so. E che non abbiamo i soldi per pagarla, ha capito? Se no gliela pagherei, ci mancherebbe. Però posso riempirla di preghiere? No, no, ce la prega niente. Aspetti. Mi viene da rire. Sto rirendo perché, però... Allora, il signor Luigi si trova a tutti i pazzi per eredirsi. Scherzo. Amore. Sara. Ma faccia, c***o. Ciao, bacione da sorfregola. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti i pazzi per RDS.